Buonasera da Paola Giunti. Oggi siamo in compagnia di Vittorio Sabadin che presenterà il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Vittorio Sabadin non è un musicologo in senso stretto, ma un conosciutissimo giornalista della stampa dove nel corso della sua carriera ha ricoperto moltissimi ruoli. È stato capo redattore centrale, corrispondente da Londra, vice direttore e adesso è un editorialista. Tra l'altro ha scritto anche un libro sul giornalismo, l'ultima copia del New York Times. Quindi Vittorio Sabadin è un erudito, uno studioso, sarebbe piaciuto molto a Mozart comunque in quell'epoca lì, ed è un grande appassionato di Mozart. Tra l'altro è l'autore di una nuova versione del testo del flauto magico, pensato appositamente per i bambini e i ragazzi, che presenteremo al piccolo regio il 15 e il 17 gennaio. Quindi potremo apprezzare le sue doti non solo di oratore, ma anche di autore in questo caso, quindi un nuovo chicaneider. Prossimamente, per il momento le recite sono solo per le scuole. Sono sicura che il successo dell'iniziativa farà sì che lo riprenderemo e quindi ci sarà anche la possibilità per più persone di vedere questo spettacolo. Lascio a Vittorio Sabadini la parola e vi ricordo che la prima del flauto magico venerdì 10 gennaio sarà in diretta su Rai Radio 3 e che potrete seguire come sempre le curiosità e il backstage sui nostri siti web seguendo le pillole di passione. A te Vittorio. Grazie, grazie della lusinghiera presentazione. Il flauto magico è forse l'opera che più di tutte si presta ad essere rappresentata per i bambini, perché può essere letta come una bellissima fiaba in cui una principessa è prigioniera e un principe la va a salvare e alla fine i due affrontano delle prove che supereranno per sposarsi, per entrare nel regno di Sarastro. Quindi può essere raccontata in questo modo semplice, ma può essere raccontata anche in un modo più complesso. Personalmente è l'opera di Mozart che io preferisco e siccome Mozart è il compositore che preferisco, è l'opera che preferisco in assoluto. Penso che nessuno sia riuscito a fare di meglio nel campo della lirica e della musica. Mozart la compose nel suo ultimo anno di vita, il 1791, un anno che grandi musicologi come Massimo Mila hanno definito un anno quasi veggente in cui la musica di Mozart era permeata proprio di una nuova luce, di saggezza, quasi come se Mozart vedesse insomma molto al di là delle questioni terrene e delle cose terrene. Di questo ultimo anno fanno parte i capolavori come il concerto per il clarinetto, la Beaverum, ma anche tanta musica che Mozart scrisse per strumenti strani come gli organi meccanici o come addirittura un adagio e rondò meraviglioso scritto per l'armonica d'acqua di una somatrice cieca. L'armonica d'acqua è quella che si fa con i bicchieri, riempiendo i bicchieri a diversa altezza di acqua. Quindi un anno veramente straordinario, interrotto dalla morte di Mozart nella notte del 5 dicembre appunto del 1776. 1991. A proporgli di lavorare al flauto magico fu un capocomico che gestiva un teatro alla periferia di Vienna nel quartiere di Wieden, il teatro si chiamava Auf der Wieden, un piccolo teatro che rappresentava opere essenzialmente popolari destinate ad un pubblico non nobile ma al pubblico della gente comune, dei viennesi comuni. Rappresentava molte opere buffe, molte stauber oper e appunto Schikaneder chiede a Mozart di comporre la musica per un'opera buffa, un sing spiel, quindi un'opera che ha molta musica ma anche lunghissime parti recitate, lunghissime parti dialogate e che mescola quindi il teatro classico al teatro con musica, separandoli nettamente. Schikaneder scrive almeno per quello che sappiamo, per quello che crediamo di sapere della storia di quest'opera, scrive il libretto e Mozart scrive la musica. Comincia a comporre intorno a marzo, la finisce a metà dell'estate mentre lavora anche a un capolavoro purtroppo incompiuto come il Requiem e alla Clemenza di Tito che fu l'opera che gli era stata commissionata per l'incoronazione mi pare di Ludovico II di Baviera che venne rappresentata a Praga pochi giorni prima della prima del flauto magico. La prima del flauto magico avviene il 30 settembre. Vi dicevo prima del libretto di Schikaneder perché di questo libretto si è veramente detto peste e corna, cioè tutti i grandi studiosi di musica ma anche grandi scrittori come Margherita Jorzenar, la Jorzenar lo definiva una cozzaia di banalità, Mila lo definiva squinternato, bambinesco e tozzo e anche un grande studioso di Mozart come Habert lo definiva primitivo e banale. Perché? Perché questo libretto è pieno di apparenti contraddizioni, è pieno di un linguaggio che a volte sembra assurdo, a volte incomprensibile, di frasi altisonanti che suonano strane. Però ad una lettura più approfondita il libretto di Schikaneder ci dice tantissime cose e la prima cosa che ci dice è che forse non è stato lui a scriverlo. Schikaneder era un capocomico, era un cantante, un baritono, gestiva un teatro molto indaffarato perché questo teatro operò per circa 14 anni rappresentando più di 300 spettacoli all'anno quindi con un via vai continuo di opere, di musicisti, di cose. Insomma sembra difficile che Schikaneder avesse la cultura e anche il tempo di comporre un'opera così complessa come il libretto del flauto magico. Certo a farci riflettere dovrebbe essere innanzitutto una frase di Goethe, il più grande scrittore tedesco che era un grandissimo appassionato del flauto magico e Goethe sosteneva che ci vuole più intelligenza per apprezzare il libretto del flauto magico che non per criticarlo. Quindi che cosa c'è in questo libretto e chi può averlo scritto? Le ipotesi sono tante, si parte da un grande uomo di cultura dell'epoca che si chiamava Ignace von Born e che era capo della loggia massonica alla quale sia Schikaneder che Mozart erano iscritti. Però i sospetti recentemente da parte di alcuni studiosi che se ne stanno occupando vanno alla figura di Ludwig Gieseke che era un grande mineralogista dell'epoca, ancora oggi in Europa molti musei contengono le collezioni delle sue pietre che lui aveva raccolto e che lavorava nel teatro dei Schikaneder. Era un attore, un cantante, impersonò alla prima del flauto magico il primo degli schiavi di Monostatos e all'inizio dell'Ottocento, dopo essersi trasferito in Irlanda, al termine di una cena, dopo aver bevuto qualche whisky, disse ho composto io, ho scritto io il libretto del flauto magico. Schikaneder ha fatto soltanto le parti di Papagheno e Papaghena, quindi le parti più buffe, quelle che lui interpretava, ma tutta la parte iniziatica dei sacerdoti di Sarastro, delle prove che Pamina e Tamino affrontano, è stata scritta da questo uomo che poi morì in Irlanda e non rivelò mai, a parte quella sera lì, di essere stato lui l'autore. Questo forse anche sulla base di un principio un po' se volete massonico, in cui non ha tanta importanza chi divulga la conoscenza, ma quello che conta è la conoscenza stessa. Chi ha scritto il libretto del flauto magico sicuramente ha letto dei testi che si riferiscono alla mitologia antica, ha letto le metamorfosi di Apuleio, ha letto probabilmente la tempesta di Shakespeare, tutti i lavori che hanno forti analogie con il flauto magico e forse ha letto anche la Divina Commedia di Dante. Proprio recentemente molti studi sono stati fatti e alcuni libri sono stati scritti di parallelismo tra il flauto magico e la Divina Commedia e lo vedremo nel corso di questa conversazione quali sono i punti di contatto fra questi due capolavori. Come la Divina Commedia è stata scritta in volgare, anche il flauto magico è stato scritto in tedesco, in un'epoca nella quale le opere venivano quasi tutte rappresentate in italiano. E questo, per entrambi questi capolavori, ha avuto la stessa origine e la stessa ragione, cioè avvicinare il più grande pubblico possibile, cioè fare un'opera nella lingua che la gente parlava. Allora, che cosa racconta la storia del flauto magico? Innanzitutto ha un antefatto, che poi la regina della notte spiegherà prima della sua secondaria. All'inizio una coppia sovrana governava il mondo e da loro nacque Pamina. Questa coppia sovrana aveva stabilito un accordo, fare il principio femminile e quello maschile, fra la notte e il giorno. Quando muore il re, questo equilibrio si spezza e quindi il mondo cade nel caos, cade nel disordine. E soprattutto il re, che lascia tutte le sue ricchezze alla regina della notte e a Pamina, non dà però... non dà però alla regina della notte un cerchio solare che lui possedeva, che era un cerchio potentissimo, il simbolo del sole. Il sole dà vita alle creature viventi, ma nello stesso tempo può anche dare la morte e quindi un'arma potente che il re non riteneva che le donne potessero maneggiare e possedere. Quindi la storia del falto magico è la storia di un principe, Tamino, al quale la regina della notte chiede di andare a salvare Pamina, che nel frattempo è stata rapita da Sarastro, ed è la storia del viaggio di Tamino e di Papagheno verso il castello di Sarastro con questo scopo. Nel suo viaggio Tamino comprenderà però che quello che gli ha detto la regina della notte non è vero, la regina della notte nella sua secondaria rivelerà tutta la sua perfidia e il suo vero obiettivo che è quello di impadronirsi del disco solare custodito da Sarastro e quindi nel regno di Sarastro Tamino e Pamina affronteranno la prova dell'acqua e del fuoco che consentirà loro di entrare nel regno e probabilmente di essere i successori di Sarastro, ma soprattutto di chiudere il cerchio che si era spezzato con la morte del re e quindi quel cerchio che aveva creato l'armonia del mondo e ricrearla attraverso il loro rapporto d'amore. Il flauto comincia con Tamino che si presenta in scena inseguito da un drago o da un serpente. Lo spartito indica chiaramente che deve avere un arco senza freccia. Su questo arco senza freccia si è discusso a lungo, diciamo chi si occupa solo di musica dice è evidente che non aveva più frecce, le aveva tirate tutte contro il serpente cercando di scappare. Invece l'arco senza freccia ha un significato esoterico, massonico particolare e diciamo che questa scena può anche essere vista come non la fuga di Tamino da un animale vero ma la fuga di Tamino da una bestia che lo divora internamente, la fuga di Tamino da un se stesso del quale lui si vuole liberare e per questo grida aiuto. Le filosofie orientali ci dicono che il maestro arriva quando lo si chiama, se il maestro arriva senza che lo si chiami noi non lo riconosciamo. Quindi Tamino sviene, chiede aiuto perché ha esaurito con le frecce le sue armi inferiori, ora ha bisogno di armi superiori per riuscire ad uscire da quella situazione. Come Dante Tamino sviene, come Dante Tamino incontra una bestia, Dante all'inizio del suo viaggio incontra la lonza, il leone e il lupo, la lupa, la lonza e il leone e poi incontra Cerbero come Tamino anche Dante chiede aiuto, come Tamino anche Dante avrà una guida che saranno i tre fanciulli che lo porta nel suo viaggio definiamolo iniziatico Dante avrà Virgilio, dopo Virgilio Dante avrà Beatrice, Tamino avrà Pamina per accedere poi all'ultimo stadio che è quello più vicino a Dio, Dante si avverrà di Bernardo dei Chiaravalle che fu il fondatore dell'Ordine dei Templari e Tamino si avvale di Sarastro. Quindi ci sono fortissime analogie anche in queste due situazioni. La tonalità dell'ingresso in scena così drammatico di Tamino e il dominore che è la tonalità dell'affanno, la tonalità della quale con la musica si mostra appunto la concitazione, l'affanno, la paura. Vorrei farvi vedere questa entrata in scena di Pamino in due visioni molto diverse fra di loro. La prima è di Ingmar Bergman, il grande regista svedese, che fece nel 1975 un film per la televisione svedese dedicato al fatto magico, ricostruendo in pratica negli studi della televisione svedese il teatro così come avrebbe dovuto essere, così come forse era nel 1791 quando Mozart e Schikaneder lo rappresentarono per la prima volta. Con delle quinte mobili, nelle quali tutti i cambi di scena avvenivano all'aperto, un teatro di legno, piccolo, contenuto, bellissimo, in cui tutto funziona a meraviglia. L'altro filmato è invece più recente, del 2006, ed è il film che Kenneth Branagh, questo grande attore e regista irlandese, attore shespiriano e regista di moltissimi spettacoli derivati dalle commedie e delle tragedie di Shakespeare, ha realizzato, ambientando il flotto magico, nella Prima Guerra Mondiale. Può sembrare una scelta strana, ma in realtà funziona benissimo, lo vedrete. E anche il Tamino di Branagh fugge da qualcosa che non può controllare e deve chiedere aiuto, perché fugge dai gas, dall'iprite, che veniva usata come arma nella Prima Guerra Mondiale. E le tre damigelle arriveranno in soccorso in Bergman, uccidendo il drago, e in Branagh, invece, proteggendo Tamino da l'iprite. Mi ero dimenticato di dirvi che il film di Bergman è in svedese e ha i sottotitoli in francese, perché non è mai stato distribuito in Italia, e io l'ho trovato su una bancarella a Parigi e l'ho subito preso. E invece il film di Branagh è cantato in inglese e con sottotitoli in italiano. Quindi del flotto magico non sentiremo neanche una parola di tedesco stasera, a dimostrazione di quanto tutti i capolavori poi siano adattabili a tante situazioni, a tante interpretazioni diverse. Si può fare veramente quel che si vuole e rimane comunque la sua magia. Non c'è alcun dubbio su questo. Avete visto anche il particolare della medaglietta di Tamino, dove c'è scritto Captain Tamino. E anche all'inizio di Bergman il fatto che Tamino entra in scena con un arco senza le frecce. A questo punto entra in scena Papagheno con la sua gabbia sulle spalle. Papagheno vive nella foresta, raccoglie uccelli per la regina della notte, non sa nulla, non sa da dove viene, non sa chi sono i suoi genitori, non sa che esiste un altro mondo al di fuori della foresta. È proprio l'opposto di Tamino da questo punto di vista. Ma, come dirà ad un certo punto dell'opera, il mondo è pieno di gente come me. Quindi anche la gente come lui, che vuole solo mangiare, bere, che sogna solo di avere una moglie simile a lui, ha ovviamente, dal punto di vista del racconto del fatto magico, il diritto di vivere su questa terra e di essere felice. Mentre Tamino aspetta un livello di felicità superiore che dovrà conquistare attraverso le prove. Le tre damigelle consegnano a Tamino un ritratto, il ritratto di Pamina. Tamino lo guarda, si innamora subito di questa donna, canta la sua aria, un'aria nella quale appunto rivela tutta la sua contentenza, il suo piacere di vedere una ragazza così bella. se ne innamora e le tre damigelle gli annunciano l'arrivo della regina della notte. Il primo arrivo della regina della notte è sempre stato e continua ad essere nei teatri un meraviglioso momento scenico. Forse il più grande apparato scenico che è stato realizzato per questo ingresso è quello che venne fatto nel 1815, dove c'è un cielo trapuntato di stelle, che fu fatto da Carl Friedrich Schinkel, che realizzò un'edizione del flauto magico, credo a Vienna. Ed è quello che si usa ancora oggi, che c'è dappertutto, ancora nei programmi di sala. c'è nel manifesto che c'è qui fuori del flauto magico, insomma è quello che è rimasto nella memoria di tutti e che è stato il più imitato. La regina della notte arriva per chiedere a Tamino di andare a salvare Pamina e gli dice ho una figlia, mia figlia, hai visto il suo ritratto, è stata presa prigionera da un malvagio, da sarastro, e tu la devi andare a liberare. Se la libererai, l'avrai come premio in sposa. Il personaggio della regina della notte è il più famoso, credo nella storia dell'opera, è famosissima nella sua seconda aria per la serie di fa sopra cuti che la regina canta, che sono quasi dei limiti estremi ai quali può arrivare la voce di un soprano lirico. Però nella prima aria, la prima aria è divisa in due parti. Nella prima parte la regina della notte sembra veramente una madre dolorosa che chiede a un principe che dovrebbe essere coraggiosa anche se l'abbiamo appena visto fuggire dal drago e svenire di paura. Anche questa viene interpretata come una contraddizione del libretto perché la regina della notte chiede a uno che sviene e scappa di essere l'eroe che va a salvare sua figlia. Quindi nella prima parte lei è veramente una madre dolorosa, lo vedremo nelle edizioni di Bergman. Bergman ce la fa vedere con un velo nero, arriva con un velo nero, che è il velo nero che nella tradizione era quello di Iside, era il velo che nessun occhio umano poteva oltrepassare, ma anche quello di Demetra. Demetra si copre di un velo nero e gira la terra per cercare la figlia rapita da Ade e vaga con il suo dolore e la sua tristezza per la terra, coperta da questo velo nero. E quindi Bergman ce la fa vedere in questo modo, confermando che è un autore straordinario, che l'incontro fra Bergman e Mozart è l'incontro fra due geni, che si sono veramente capiti a vicenda. Bergman ha tratto da questo capolavoro un film veramente straordinario, che purtroppo, come vi dicevo, è molto difficile da trovare, e si trova solo in questa edizione francese. A un certo punto, nel film di Bergman, vedrete che la Regione della Notte si porta la mano sinistra vicino agli occhi e lancia un'occhiata brevissima verso Tamino, come di chi dice, mi starà credendo? Lo sto prendendo nella rete? Non lo guarda proprio così, lo vedrete. E subito dopo, dicendo per tre volte il nome tu, 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 la musica cambia completamente, Mozart ci fa sentire che questa donna non ha solo quel carattere di Demetra che cerca disperata la figlia, ma è anche una donna molto dura, capace di grandi energie, forse di grandi odi, e ci fa sentire che tocca il falso avracuto però una sola volta, nei suoi gorgheggi, eccetera. E quindi ci dà un anticipo della sua straordinaria potenza. Vediamolo. Meravigliosa questa prima area della Regione della Notte, più bella sicuramente sarà la seconda che poi sentiremo. C'è da notare da un punto di vista musicale, Mozart va sempre osservato, anche nello spartito, in quest'area della Regione della Notte Mozart ha tolto i clarinetti, non ci sono clarinetti, perché il clarinetto per lui era lo strumento dell'introsprezione malinconica, lo strumento della dolcezza, non è uno strumento che si adatta, che può stare nella musica della Regione della Notte. Il flauto magico è un'opera piena di aree che tutti ci ricordiamo, sicuramente la più famosa è quella della seconda della Regione della Notte, ma anche tutte le aree di Papagheno sono nell'orecchio di tutti. Però ci sono dei punti del flauto magico che corrono il rischio di passare inosservati. Uno di questi avviene proprio ora. Andata via la Regione della Notte, le tre damigelle danno a Tamino il flauto magico e a Papagheno una scatola di campanelli, due strumenti che potranno servire loro per togliersi l'impiccio nei momenti più difficili e nel momento in cui poi li invitano a partire, Tamino e Papagheno chiedono ma dov'è il Regno di Sarastro? È lontano da qui, chi ci guiderà al Regno di Sarastro? Le tre damigelle parlottano un po' fra di loro e poi annunciano a Tamino e a Papagheno che tre fanciulli li porteranno al Regno di Sarastro. Come dicevamo prima, questi tre fanciulli sono l'equivalente di Virgilio nella Divina Commedia. Ma qui, dopo una pausa, dopo che le tre damigelle parlottano fra di loro e la musica si ferma per un attimo, comincia una nuova musica. Si passa dall'allegro che abbiamo sentito prima a un andante in quattro quarti con un pizzicato di violini che introduce gli strumenti a fiato che sono tipici della musica massonica. La musica massonica utilizzava quasi esclusivamente strumenti a fiato come i clarinetti, i fagotti, i corni. E poi sono proprio questi gli strumenti che sentiamo adesso e che ci portano in un'atmosfera completamente diversa dal punto di vista musicale rispetto a quello che abbiamo sentito finora. Un cantico meraviglioso e solenne e da questo punto, secondo Massimo Mila che ha scritto una splendida e mai eguagliata lettura del flauto magico, proprio da questo punto, secondo Mila, si pongono le fondamenta della futura opera nazionale tedesca, cito testualmente, del suo clima soprannaturale così lontano dal realismo dell'opera italiana. Un clima di sogno e di leggenda senza il quale Lohengrin non avrebbe potuto intonare il suo canto meraviglioso. Lo stesso Wagner dirà che il flauto magico è l'inizio dell'opera tedesca ed è un inizio sfolgorante. Wagner dirà che mai nessuno riuscirà a superare in bellezza la prima opera dell'opera tedesca. Quindi ammette la grandezza del flauto magico. Quindi vediamolo ancora con Bergman perché Bergman è quello che ha veramente individuato tre fanciulli meravigliosi, hanno dei volti straordinari e Bergman si è anche preso una piccola licenza qui perché mentre nell'originale di Mozart e di Schikaneder sono le tre damigelle che annunciano i tre fanciulli, qui sono i tre fanciulli che cantano la parte che è nell'originale delle tre damigelle. Ma l'insieme è meraviglioso. Non lo vediamo dall'inizio perché non abbiamo purtroppo il tempo, lo vediamo dal momento in cui le damigelle consegnano i campanelli a Papagheno. La vicenda prosegue con Papagheno che anche qui incredibilmente arriva per primo nel regno di Sarastro, arriva prima di Tamino. Anche questo è considerato una delle tante stranezze e incongruenze del libretto. E incontra Monostatos che è lo schiavo, il capo degli schiavi, che tiene prigioniera Pamina. Questo incontro nell'opera è sempre molto divertente perché uno, Papagheno è ricoperto di piume, c'è una gabbia sulle spalle, l'altro Monostatos è un nero vestito alla turca come si usava all'epoca per indicare qualcosa di misterioso e di lontano. E quindi i due si vedono, si spaventano e Monostatos scappa e lascia di fatto Papagheno da solo con Pamina. Il personaggio di Monostatos è stato ovviamente a lungo studiato. Molti pensano che nella sua figura ci sia un elemento di razzismo da parte di Mozart e di Schikaneder perché è considerato nero, non può avere Pamina, canterà un'aria nella quale lamenta il fatto che lui non può avere donne, non può essere come tutti, non può avere una compagna proprio perché è nero. Io non credo che sia così e comincio a pensare come stanno pensando e hanno cominciato a scrivere alcuni studiosi di questo tema che in realtà la rappresentazione di Monostatos sia anche in questo caso più sofisticata. Monostatos potrebbe essere dal punto di vista di una rappresentazione simbolica del flotto magico nero non perché la sua pelle è nera ma nero perché veste un abito nero. Monostatos potrebbe rappresentare un prete e quindi per estensione la Chiesa. In questa interpretazione che è indubbiamente molto suggestiva Pamina è l'anima. L'anima non può parlare direttamente con Dio perché la Chiesa si infrappone. La Chiesa dice tu devi parlare con me e poi io parlerò con Dio per tuo conto. A un certo punto cioè come dire a un certo punto Monostatos dirà poco prima dell'arrivo della regina della notte nel secondo atto tu hai un solo modo dirà Pamina hai un solo modo di salvarti ed è amare me. Allora molti hanno visto in questo una ferma condanna da parte di Mozart e dell'autore del libretto Cicanedro chiunque fosse della Chiesa per il suo comportamento. la frase di Monostatos sembra la frase di un inquisitore degli inquisitori dei tempi di Cortese e della conquista insomma viene sottolineato come si debba avere il diritto di poter essere cristiani di poter credere in Dio senza per forza essere cattolici e il diritto quindi di avere un accesso personale al contatto con Dio che non sia più intermediato da Monostatos. Monostatos si lamenta della sua condizione della sua impossibilità di avere una donna esattamente come i preti non possono sposarsi e quindi l'impedimento non sarebbe tanto dovuto al fatto che lui è nero ma al fatto che veste un abito nero. Questa interpretazione spiegherebbe anche forse un po' l'ostracismo che la Chiesa Cattolica ha sempre avuto nei confronti della musica sacra di Mozart. Mozart non ha scritto molta musica sacra ma tutta meravigliosa e tutta straordinariamente laica. quando si ascolta la messa in dominore il Requiem le esultate jubilate tantissime altre sue composizioni si avverte questa laicità straordinaria della musica di Mozart. La musica di Mozart non è quasi mai stata rappresentata in Chiesa raramente l'aveva vero sicuramente di più ma quasi mai rappresentata in Chiesa e mi ricordo che ci furono delle polemiche in una messa di Voitila proprio perché ci furono delle proteste insomma all'interno del Vaticano che restarono un po' nascoste e sommesse perché in una messa di Papavoitila fu appunto eseguita una musica di Mozart. Forse la spiegazione non è soltanto il fatto che Mozart era massone ma risiede anche forse in una interpretazione di questo tipo del del fauto magico. Rimasto solo con 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 Pamina Papagheno e Pamina iniziano un duetto che è un duetto d'amore anche questo in congruenza del libretto come mai due persone che non si amano e che non sono destinate una all'altra fanno un duetto d'amore. La spiegazione è semplice quello che cantano Papagheno e Pamina non è un amore reciproco ma è un inno all'amore e l'amore che dà significato alla vita l'amore che riduce i tormenti chiuderanno il loro canto dicendo che grazie all'amore l'uomo e la donna la donna e l'uomo possono giungere fino alla divinità e questa è un'anticipazione di quello che sarà poi il tema del secondo atto cioè il percorso di Pamina e Tamino attraverso l'amore e grazie all'amore verso il regno di Sarastro che è una condizione diciamo così superiore della loro anima. Questo duetto è veramente molto semplice fatto di un continuo rimando dalla tonica alla dominante un duetto di due anime semplici insomma in un ritmo molto cullante in sei ottavi in cui Papagheno riprende le frasi di Pamina ma sentirete alla fine come Pamina si stacchi da Papagheno con dei vocalizzi e con dei salti armonici che cominciano a delineare che per lei il percorso sarà molto diverso. Sia Branagh che Bergman hanno usato degli interpreti giovani per le loro rappresentazioni e Bergman diceva che per quest'opera ci vuole gente giovane ci vogliono i giovani ci vogliono persone piene di vita che se si fa il flauto magico con degli interpreti troppi anziani è soltanto ridicolo ovviamente lui poteva farlo perché fa del cinema e quindi nel cinema ci sono i primi piani ci sono insomma delle situazioni che gli consentono di fare questo in teatro è molto più difficile perché ovviamente anche la qualità della voce deve avere la sua importanza mentre Papagheno e Pamina cantano Tamino viene portato dai tre fanciulli verso il regno di Sarastro anche qui lo vedremo è un pezzo breve risentiremo quegli strumenti massonici quindi i clarinetti i flauti i tromboni che accompagnano sempre questo tipo di musica e siamo al secondo episodio che ci preannuncia il regno di Sarastro da un punto di vista musicale i tre fanciulli sono sempre accompagnati da questo tipo di musica che percepiamo come diversa rispetto a quello che abbiamo sentito prima ma anche qui questa musica è bellissima nel senso che l'attacco di questo pezzo riprende il tema iniziale dell'ouverture che non abbiamo sentito con una serie quasi di rintocchi poi c'è una lunghissima nota di clarinetti e flauti sulla quale si innesta questo canto nobile grave che è il leitmotiv proprio del flauto magico che viene ripreso dai tre fanciulli i tre fanciulli indicano a Tamino quali sono le virtù che dovrà seguire se vorrà compiere il suo percorso nel regno di Sarastro e quindi la pazienza la saggezza la risolutezza ognuna di queste parole è separata dalle altre da una nota tenuta dai tromboni dai flauti e dai clarinetti si entra quindi in un clima molto diverso in una concezione più alta in un clima musicale che ci preannuncia il regno di Sarastro lo vediamo anche questo dal film di Branagh con i tre fanciulli che portano Tamino attraverso una trincea siamo ad un momento chiave dell'opera Tamino arriva al regno di Sarastro si trova davanti tre porte che hanno una scritta sopra una alla porta della saggezza quella centrale le altre sono della ragione della natura Tamino bussa alla ragione della natura e viene respinto e invece nella porta centrale della saggezza esce un sacerdote a questo sacerdote Tamino dice abita qui Sarastro abita qui quel perfido di Sarastro che ha rapito Pamina e il sacerdote gli dice no guarda ti stai sbagliando Sarastro abita qui ma non è quello che dici tu Sarastro è buono governa su un regno dove regnano appunto la saggezza la natura la ragione la bontà la fratellanza universale e quindi ti stai sbagliando e Tamino sempre più insomma sempre più incerto su quello su quello che deve fare chiede quando svanirà il velo quando quando se ne andrà il velo e il sacerdote gli risponde con una bellissima frase anche questa è una piccola perla che Mozart mette a metà più o meno a metà del flauto magico risponde quando la mano dell'amicizia ti condurrà nel santuario per un legame eterno questa frase la sentiremo è una frase in la minore come di un oracolo di una bellezza veramente quasi scultorea che viene raddoppiata dai violoncelli i violoncelli poi la riprendono e viene ripresa anche da un coro di esseri invisibili che rispondono che rispondono a Tamino Tamino chiede al buio chiede quando vedrò la luce molto spesso questo vedrò è stato tradotto con rivedrò cioè siamo di notte e Tamino dice quando tornerà il sole ma in realtà il significato è più profondo Tamino dice quando vedrò la luce vuol dire quando troverò la mia luce interiore quando capirò come stanno davvero le cose quando sarà resa possibile la mia trasformazione nel secondo atto come vi dicevo la regina della notte che nel primo sembrava buona diventa cattiva anche questo è stato discusso fiumi di inchiostro si sono versati su questa cosa qui un'incongruenza del libretto anche questa sostenendo che poiché in quei giorni a Vienna veniva rappresentata anche un'altra opera che si chiamava Setos tratta da uno scritto dell'abate Terrasson che raccontava una storia molto simile a Flauto Magico Mozart e Schikaneder siano stati costretti a cambiare in corso d'opera la loro storia e quindi a fare un'inversione diciamo del ruolo dei personaggi a metà dell'opera io credo che questo non sia vero perché se fosse vero ce ne sarebbe una traccia nelle lettere che Mozart scriveva in quel periodo alla moglie che si trovava a fare le termine a Baden e che Mozart teneva informato di ogni cosa che riguardava anche il Flauto Magico di questo non c'è traccia e il racconto del Flauto Magico può essere assolutamente coerente se si considera un'altra cosa se si considera ad esempio quello che Virgilio dice a Dante spiegandogli che all'origine del desiderio c'è un oggetto reale che noi idealizziamo in una immagine mentale ed è di questa immagine che noi ci innamoriamo la ricerca della verità per Virgilio è la liberazione da queste immagini mentali che sono frutto di condizionamenti e di influenze di altre persone la verità quindi è vedere le cose come sono e non farsi condizionare da quello che ci viene detto allora non è la regina della notte che cambia ma è il modo con il quale Tamino la vede che cambia Tamino prima si fa condizionare da lei e quindi la vede come Mozart ce la fa vedere ma poi nel secondo atto vediamo la regina come veramente perché Tamino è riuscito a realizzare a realizzare questo suo cambiamento interiore andiamo un po' di corsa perché il tempo sta passando ma vi vorrei leggere che cosa proprio Ingmar Bergman ha scritto di questo pezzo che stiamo per vedere nel mio film L'ora del lupo ho in seguito cercato di rappresentare la scena che mi ha commosso più profondamente Tamino solo di fronte al palazzo c'è buio egli è stato colto dal dubbio e dalla disperazione grida o notte oscura quando ti dissolverai quando troverò la luce nella tenebra le voci rispondono pianissimo dall'interno del tempio presto presto o mai più Tamino presto presto o mai più voi essere meno nascosti rispondete Pamina vive ancora le voci rispondono lontano Pamina Pamina vive ancora queste dodici battute contengono due domande ai limiti estremi della vita ma anche due risposte quando Mozart scrisse la sua opera era già malato l'intuizione della morte lo sfiorava in un momento di impaziente e disperazione grida o notte oscura quando ti dissolverai quando troverò la luce nella tenebra il coro risponde ambiguo presto presto o mai più Mozart mortalmente malato grida una domanda alla tenebra da questa tenebra risponde agli stesso alla propria domanda così l'altra domanda Pamina vive ancora la musica traduce la semplice domanda del testo nella più grande delle domande è vivo l'amore è reale l'amore la risposta giunge tremante ma piena di speranza in una strana suddivisione del nome di Pamina Pamina vive ancora non si tratta più del nome di una trente giovane donna è una parola in codice che indica l'amore Pamina vive ancora l'amore esiste l'amore è reale nel mondo degli uomini vorrei soffermarvi brevemente su un punto del fatto magico quello in cui Pamina e Papageno incontrano di nuovo monostatos che li vuole prendere prigionieri e Papageno si libera utilizzando i campanelli magici io considero Mila il mio vangelo musicale il poco che so della musica l'ho imparato leggendo i suoi libri però su un punto non sono d'accordo con lui lui dice che nel fatto magico Mozart si identificava con la figura di Papageno perché Papageno rappresentava il popolo che la domenica andava al Prater a Vienna andava sulla ruota panoramica si divertiva insomma era Papageno era il rappresentante di queste persone semplici ma quali prove iniziatiche quali principi quali re Mozart voleva identificarsi con quello e quindi per Mila questo è il punto più alto dell'opera quello dei campanelli quello in cui Papageno suona questa musica per liberarsi magicamente di monostratos ma c'è una lettera di Mozart che smentisce questa interpretazione una lettera di Mozart proprio alla moglie Mozart racconta l'inizio del secondo atto la scena solenne che vedremo tra poco che è connotata dice dal numero 18 ci sono 18 sacerdoti 18 seggi 18 piramidi eccetera e c'è un lunghissimo recitativo di Sarastro con i sacerdoti e Mozart scrive alla moglie uno spettatore mi si è avvicinato e dissertava di mille molle di soldi la invece di pensare a quello che era stato detto gli avrei dato del Papageno scrive alla moglie quindi non possiamo pensare che l'ideale di Mozart fosse Papageno questo lo dice in modo spregiativo e non solo ma questa lettera ci fa anche capire quanta importanza Mozart desse anche al testo del Foto Magico e quindi questo libretto che anche dal punto di vista di Mozart non doveva essere così squinternato il secondo atto comincia con una lenta marcia dei sacerdoti una marcia processionale che ha veramente un timbro musicale particolare un timbro musicale che un grande studioso di Mozart Albert diceva che ha questo tocco commovente di malinconia che è presente in tutta la musica degli iniziati dei sacerdoti nel secondo atto del Foto Magico anche qui con una prevalenza di strumenti a fiato ma escludendo gli strumenti a fiato più acuti come il flauto e l'oboe quindi ci sono solo gli strumenti a fiato che diciamo che hanno una tonalità bassa quelli che possono dare il timbro di una musica velata di una musica di accompagnamento in cui gli archi hanno una funzione di raddoppio e c'è un sottovoce in fa maggiore che è veramente toccante e come dice Albert malinconico questa cosa nel Foto Magico è preceduta come vi dicevo da un lungo recitativo che ha un momento anche qui rivelatore a un certo punto i sacerdoti chiedono a Sarastro se Tamino è degno di rientrare nel loro regno e di affrontare le prove e Sarastro dice sì è degno perché è più di un principe è un uomo e usa questa meravigliosa parola tedesca Ein Mensch per dire uomo che non è solo uomo è essere umano è uomo nella sua totalità questa cosa è speculare rispetto a una cosa che accade nel primo atto quando Tamino fa valere il suo ruolo di principe nei confronti di Papagheno e Papagheno gli dice io sono solo un uomo nel primo atto Tamino si crede superiore perché è un principe nel secondo atto Sarastro ci dice che Tamino è più di un principe è un uomo e questa è veramente una cosa meravigliosa e rivelatrice della cosa al termine della marcia dei sacerdoti Sarastro intona la famosa aria Isis und Osiris in cui prega queste due divinità Iside e Osiride di proteggere Tamino e Pamina nelle prove che stanno per affrontare e se non riescono a superare le prove di accoglierli nel loro regno come vi dicevo gli strumenti sono tipici del tono della musica dei sacerdoti sono corni di bassetto fagotti tromboni viola e violoncello e non ci sono nell'area di Sarastro né violini né contrabbassi né flauti né obbi quindi anche qui una velatura totale bellissima la versione che ne ha fatto Branagh di questo pezzo Branagh immagina che ci sia una processione che la processione dei sacerdoti sia la processione di gente comune di bambini e di persone di tutte le razze che vanno in un cimitero di guerra a deporre fiori e toccano le lapidi ci sono anche persone di cultura musulmana insomma è un momento veramente molto toccante e c'è questo un po' strano Sarastro che nel film è il direttore di un ospedale di guerra che ha un giubbottino strano ha i capelli corti insomma molto lontano dall'immagine che abbiamo di Sarastro che di solito ha la barba i capelli lunghi e una lunga veste e veniamo alla seconda area della Regione della Notte non si può fare un incontro sul fatto magico senza farla sentire vedremo quella di Bergman quella di Bergman perché anche in questo caso è straordinaria molto spesso nei teatri non si coglie a sufficienza la violenza di questo intervento della Regione della Notte che torna per chiedere a sua figlia di commettere un omicidio di uccidere Sarastro con un pugnale è una violenza che Mozart ci fa percepire con una serie incredibile di gorgheggi e di note sopra il rigo che la regina canta ci sono quattro fa sopra acuti solo sopra acuti solo nella prima parte ci sono 23 fa consecutivi con tre sottolineature di salto di ottava che le interrompono che ne fanno un canto veramente gelido incandescente demoniaco nella tonalità di re minore che è la tonalità del requiem la tonalità del lutto del dolore in questa in questa rappresentazione di Bergman lui ci fa vedere chiaramente come Pamina interrompe il suo rapporto con la madre in seguito a quest'area il rapporto madre figlia è stato indagato da eminenti psicologi per anni e insomma tutti sappiamo quanto sia difficile quel momento in cui la figlia si stacca dalla madre e finisce di obbedirle e noi vediamo proprio qui Pamina che guarda sua madre non la riconosce più e anche lei qui ha la sua morte simbolica muore come era accaduta a Tamino all'inizio dopo l'incontro con il drago per rinascere verso una nuova vita ma liberandosi definitivamente della madre l'interpretazione di Bergman è davvero stupenda perché ci fa vedere anche con un gioco di luce di trucco come il volto della regina della notte si trasforma e diventa un'altra persona Tamino va avanti nel suo percorso iniziatico e siamo alla fine siamo alle prove del fuoco e dell'acqua che dovrà affrontare lo attendono due personaggi due armigieri coperti di armatura come si specifica nel libretto devono essere ricoperti da un'armatura ma non armati molto spesso invece nelle edizioni che si fanno nei teatri hanno lance spade assolutamente inutili per quello che devono fare e in più devono avere un elmo con un fuoco sulla testa Bergman lo vedremo ci li fa vedere proprio così con questo fuoco sulla testa il canto che loro due intonano che questi due armigieri intonano è considerato da tutti i musicologi il più complesso dell'intero flauto magico e quindi il punto più alto da un punto di vista musicale del flauto magico perché è una musica che Mozart non ha scritto è la mescolatura di due pezzi preesistenti uno una musica cattolica e l'altro una musica protestante uno è un kirie che aveva scritto un musicista che si chiamava Von Biber e l'altro è un corale luterano che si cantava con un testo scritto dallo stesso Lutero e che era molto noto all'epoca anche perché veniva usato nei libri di testo musicali insomma si studiava su questo corale Mozart li mette insieme li fonde con una maestria compositiva veramente insuperata e fa cantare questi due armigieri appunto su questo corale qual è il significato di questa strana operazione è molto semplice Mozart ci dice che bisogna credere in Dio ma che non importa in quale forma Dio viene rappresentato e che ci può essere anche una commistione di religioni diverse in questo caso quella protestante quella cattolica che era la religione di Mozart senza che questo pregiudichi il nostro rapporto con Dio dopo aver cantato questa cosa i due armigieri si tolgono l'elmo e come nota mila diventano come due militari in licenza che diventano due simpaticoni che danno consigli su che cosa fare e cosa non fare arriva Pamina Tamino crede di dover essere da sola ad affrontare le prove ma sente la voce di Pamina Pamina arriva da lontano Tamino chiede ai due armigieri se la potrà vedere se potranno stare insieme i due armigieri li rassicurano e arriva Pamina i due si incontrano lo vedrete nel film di Bergman uno di fronte all'altro e c'è anche qui una musica straordinaria che dura pochissimo ma che è di una bellezza infinita il canto di Pamina è di una purezza straordinaria Tamino lo riprende gli fa vedere che andranno verso una prova difficile verso la morte e la morte ci attende e Pamina sempre con questo canto meraviglioso purissimo dolcissimo gli dice non ti preoccupare io sarò dovunque al tuo fianco io ti guiderò perché l'amore ci guida è veramente incredibile la dolcezza spero che si possa percepire con la quale Mozart ha scritto questa musica per Pamina e Pamina forse che forse non è strano a questo anche il fatto che a interpretare Pamina nella prima edizione del Fatto Magico c'era Anna Gottlieb che era un soprano che aveva interpretato Barbarina nelle Nozze di Figaro e di cui Mozart era segretamente innamorato Anna Gottlieb era l'ideale femminile di Mozart un amore che non si realizzò mai perché Mozart era sposato anche se aveva le sue avventure ma con Anna non si realizzò mai questa cosa e Anna e Pamina forse sono il suo ideale di donna che cos'è Pamina in questa scena in questa parte finale del del Flotto Magico Pamina non è più come dire una donna è è un concetto diverso è una specie di riferimento che so io alla Madonna Intelligenza del Dolce Stil Novo alla componente femminile che aiuta la componente maschile a fare delle cose che da sola forse la componente maschile non riuscirebbe non riuscirebbe a fare anche qui possiamo fare un parallelo con Dante anche Dante vede Beatrice anche Dante affronta la prova del fuoco passa attraverso un fuoco e affronta la prova dell'acqua perché deve superare un fiume e Virgilio lo convince ad affrontare queste prove dicendogli che dall'altra parte c'è Beatrice e sarà Beatrice a condurlo nel paradiso senza Beatrice Dante non avrebbe potuto fare questo percorso ma questo non vuol dire che fossero innamorati la storia che Beatrice e Dante erano innamorati se le ha inventate il Petrarca qualche anno dopo ma non è nei fatti non è nella lettura della Divina Commedia e quindi i due partono fanno questo percorso nel fuoco e nell'acqua nelle due prove che Bergman rende proprio come l'inferno dantesco con dei corpi che si contorcono coperti di calza e maglia nella prova del fuoco e poi nella prova dell'acqua con delle mani che si muovono come se fossero delle alghe sul fondo del mare un pezzo meraviglioso nel quale Tamino suona il suo flauto e nel quale Pamina racconta l'origine del flauto che fu realizzato da suo padre in una notte di tempesta durante un'ora stregata il flauto magico non si conclude qui ci sarà ancora un tentativo della regina della notte di avere la meglio su Sarastro che verrà respinto e si concluderà poi con il trionfo di Sarastro e anche con prima di questo ci sarà il famoso duetto papà papà fra Papagheno e Papagheno volevo solo grazie volevo solo proprio una rapidissima conclusione prima di passare la parola a Paola che ha anche lei qualcosa da aggiungere quando ci sarà il flauto magico per i bambini il 15 gennaio noi diremo loro che il significato del flauto magico è che se due persone si vogliono bene possono fare qualunque cosa possono fare cose che da sole non riuscirebbero mai a fare io sono davvero convinto che questo sia il significato del flauto magico Pamina e Tamino qui sono come quando noi ci siamo innamorati quando avevamo 20 anni quando ci credevamo invincibili grazie all'amore che ci legava ad un uomo o a una donna si ha una potenza che poi è un coraggio che poi nella vita non si sperimenta più o si sperimenta raramente e a questo straordinario coraggio dovuto all'amore si unisce la potenza della musica la potenza del flauto e forse davvero la musica è il linguaggio con il quale Dio ci parla attraverso uomini come Mozart quindi grazie per il vostro ascolto Paola ringrazio Vittorio Sabadini è stato molto interessante vedere il confronto tra due grandi del cinema come hanno messo in scena il flauto magico la vittoria della luce sulle tenebre visto che siamo a gennaio speriamo sia di buon auspicio per l'anno che iniziamo lo spettacolo che vedrete a partire da venerdì 10 si avvale della direzione d'orchestra di Christian Arming un direttore viennese che ha mangiato pane Mozart fin da bambino è stato un allievo di Arnon Kur ha diretto i concerti di fine anno se qualcuno li ha visti e li ha sentiti la regia è di un regista cinematografico si chiama Roberto Andò l'allestimento è stato messo in scena per la prima volta a Palermo nel 2001 e noi lo riprendiamo con alcuni rifacimenti ovviamente dopo un po' di anni ed è un allestimento molto fiabesco dove diciamo che l'accento viene posto sull'aspetto fiabesco piuttosto che su quello di un viaggio iniziatico Sarastro sarà Alexander Vinogradov la regina della notte è cambiata perché Maria Leida che doveva sostenere il ruolo non è stata bene influenze raffreddori per noi sono una seccatura per loro chiaramente sono un disastro e quindi ci sarà Olga Pudova russa che è arrivata pochi giorni fa da San Pietroburgo dove peraltro faceva per l'appunto la regina della notte Tamino è un tenore italiano Giorgio Berruggi che sta diciamo se fossimo nella musica pop direndo scalando le classifiche l'avete forse ascoltato chi ha avuto l'occasione in Rodolfo nella Bohème dello scorso anno e esordisce nel ruolo veramente ha una voce bellissima Pamina Maria Grazia Schiavo Papagheno e Marcus Verba un attore straordinario ed è proprio necessario per questo ruolo oltre ovviamente a cantare bene grazie a presto grazie a tutti